Alessandro Bonelli, assistenza tecnica, distribuzione, sicurezza latina, gruppo Dodic. Per un distributore a valore aggiunto, appunto come DSL, è fondamentale il supporto tecnico? Sì, per noi è molto fondamentale, sia nella pre-vendita che post-vendita. Quindi cerchiamo di seguire l'installatore sia nella prima fase di progettazione, quindi facciamo progettazione degli impianti, e di seguirlo anche dopo la vendita, perché giustamente ha bisogno di assistenza anche nella programmazione e collaudo del proprio impianto che magari abbiamo progettato anche noi stessi. Quindi per noi sì, è molto importante il pre- e il post-vendita, anche da parte dell'assistenza tecnica, e seguiamo di seguirlo sempre e ovunque, anche sul posto direttamente. Anche sul posto, quindi anche nei cantieri? Sì, sì, io sono abilitato a uscire anche nei cantieri, quindi posso uscire tranquillamente in tutta sicurezza, e vado a nome dell'azienda, quindi seguiamo l'azienda sotto quel punto di vista, proprio perché ci teniamo a far bella figura con il nostro cliente finale che è l'installatore, e penso anche il cliente stesso che è il cliente finale, quindi per noi è molto importante. Dal punto di vista della formazione, quali le azioni che proponete? Sì, anche sulla formazione ci crediamo molto, infatti investiamo parecchio tempo nella formazione dei nostri clienti, quindi degli installatori, facendo dei corsi, corsi divisi per prodotti, quindi in base al fornitore creiamo dei corsi, anche io li eseguo direttamente, altrimenti viene di supporto lo stesso fornitore, sempre dalla parte tecnica, quindi i nostri corsi sono prettamente tecnici, quindi sono molto poco di natura commerciale, ma approfondiamo il discorso giornalmente proprio a livello tecnico, iniziando dalla mattina fino a tardo pomeriggio, proprio con prove pratiche, realizziamo un po' quello che potrebbe essere un mini impianto all'interno del corso.